Signori, Dokkan Battle versione global, quest'oggi siamo finalmente con l'evento dedicato alla squadra Giniu Squadra Giniu che tra l'altro, se ricordate, se vi siete persi in realtà il video dedicato ai free to play migliori del gioco, recuperatevelo assolutamente Perché l'abbiamo inserita all'interno della classifica, non vi dico a quale posto, ma molto molto alta, ecco Ovviamente per chi ha visto la classifica sa già in quale posizione abbiamo piazzato tutta la squadra Giniu farmabile free to play Infatti, portiamoci immediatamente all'interno degli eventi perché questo evento non è che vada più di tanto spiegato Ecco, abbiamo l'evento di Guldo quest'oggi, quindi l'evento del martedì Ed insomma, dicevo, non è che vada più di tanto spiegato questo evento, però vanno chiarite delle cose E soprattutto, va chiarito anche il metodo, tra virgolette, più veloce per farmare, per l'appunto, tutta questa squadra Giniu E per ottenere la LR finale, cioè la Giniu Force Goku version, però, della LR Allora, come potete vedere, quest'oggi, di martedì, abbiamo l'evento dedicato a Guldo Bene, qui ci stanno dicendo che praticamente se attiviamo tutta l'ability di tutta la squadra Giniu farmabile Quindi, farmiamo per dirvi Barter il lunedì, gli apriamo tutta l'ability e lo portiamo a tour Se farmiamo ovviamente Guldo il martedì, se farmiamo, vediamo, dovrebbe essere Giniu il mercoledì Gis il giovedì e Recum il venerdì Se gli apriamo a tutti l'ability, se li portiamo al 100% della loro ability, quindi li portiamo a full Praticamente abbiamo, come ricompensa, proprio lei, la LR della Giniu Force, però, con Giniu versione Goku Che non è nemmeno davvero niente niente male come LR Perché, come potete vedere, dà attacca e difesa più 30% a tutti gli alleati extreme Tanta, tanta roba, ed in più, ed in più, ai Giniu Force category dà attacca e difesa più 20% addizionale Quindi, signori, arriviamo circa ad un 50% di boost alla squadra Giniu Tanta, tanta robetta E quindi, insomma, andiamo a vedere a questo punto come si svolge l'evento o come si svolgono gli eventi Qui, come potete vedere, abbiamo, vi ripeto, questo oggi l'evento di Guldo Qui, quindi, è un tech E, ovviamente, gli eventi saranno ciclici Nel senso, varieranno di giorno in giorno E saranno aperti, praticamente, sempre In che modo? Ogni giorno avrete un membro della squadra Giniu In base al colore, ovviamente, che il gioco assegna al giorno Ad esempio, il lunedì il gioco ha sempre assegnato il colore a GL Per quanto riguarda gli eventi E quindi avrete Barter, che è, appunto, diciamo, l'elemento della squadra Giniu A GL Il martedì avrete Guldo Insomma, avete capito un pochino come funziona Quindi, varieranno di giorno in giorno Mentre il sabato e la domenica O solo il sabato, non ricordo, sinceramente Ci sarà aperto l'evento per quanto riguarda tutta la squadra Giniu Però saranno farmabili soltanto le orb Vi faccio capire un attimino cosa intendo Per saranno farmabili solo le orb Allora, portiamoci all'interno dell'evento di Guldo Così vi faccio capire meglio Tra l'altro ricordavo vi fosse attivo praticamente una sorta di bonus category qui Per aumentare il drop Però probabilmente il bonus category della squadra Giniu Sarà attivo in un altro evento Ecco qui Allora, questo qui è l'evento, ok? Dedicato, per esempio, a Guldo Ora, cosa intendevo per quanto riguarda il sabato Saranno aperti tutti gli eventi Intendevo che vi saranno aperti, diciamo, questi stage Per ognuno dei personaggi della squadra Giniu Però sarà chiusa praticamente questa strada La strada che vi porta alla nuvoletta E ciò cosa vorrà dire praticamente? Che voi, durante il weekend, potrete soltanto farmare le orb rimanenti Dei personaggi, ovviamente, che non avete farmato O che non avete portato a full ability Ma non potrete farmare, eccole qui, le copie stesse del personaggio Quindi, cosa dovete fare? Dovete assolutamente, durante la settimana, farmare prima le copie del personaggio Ma potete fare le cose tranquillamente insieme Io, ad esempio, Barter l'ho portato già solo di lunedì a full ability Tour, per dirvi Ed, insomma, concentratevi ovviamente prima un attimino sulle copie E poi vi concentrate sulle orb Orb che vi do praticamente qui Per tutta la squadra Giniu In modo che questa qui possa essere una guida dedicata proprio a tutta la squadra E non solo a Guldo Quindi senza che ci mettiamo a fare una guida per ogni personaggio Allora, vi do le orb per ogni singolo personaggio Abbiamo, per quanto riguarda Barter Partiamo dal primo Abbiamo 5740 orb piccole 3150 orb medie E 301 orb grandi Quindi, tenetevi a mente Vi lascio proprio l'immagine a schermo La starete sicuramente vedendo Ecco, tenetevi a mente questa immagine Senza che andiamo a vedere le orb per ogni singolo personaggio In modo che Vi concentrate soltanto Nel mettere da parte Quel numero specifico di orb Senza che dovete Entrare, uscire Andate a mettere ogni volta l'ability Vi farmate quel numero specifico di orb E poi le andate a dare tutte insieme Ovviamente, bisogna anche dire Che per portare a tour un personaggio della squadra Giniu E quindi per fullarlo in ability E per completare tutto l'evento dedicato a lui Bisogna fare almeno 30 run Quindi voi dovete fare in modo, praticamente Che in una giornata O magari nel totale comunque Totalizzate per l'appunto 30 run dell'evento dedicato al personaggio Ora, qual è il mio consiglio di solito qui? Cercate di andare sempre per le strade Dove vedete più Più pallini Diciamo Più piattaforme Ecco Che vi danno le orb Però io sinceramente vi dico la verità Con Barther mi sono trovato davvero benissimo Nel concentrarmi Soltanto sulle orb small Sulle orb piccole Anche perché Come potete vedere Ogni volta che voi andate All'interno della stradina Che poi vi permetterà di farmare Diciamo la copia del personaggio Ottenete le orb Sia per quanto riguarda le small Sia per quanto riguarda le medium E sia per quanto riguarda anche le large Quindi voi Fate in questo modo Cercate sempre di Tenere conto della strada Che vi da più orb Più piattaforme Poi nel caso Scegliete Sì Anche la Diciamo la strada Tranquillamente delle small E poi Vi finite di farmare le altre qui Credetemi In 30 run Forse anche di meno Sì anche meno Assolutamente In 25 Fra le 25 Le 27 run Dovreste essere in grado In media Di concludere Almeno L'ability di un personaggio Quindi Dovreste essere in grado Di portarlo S a 10 E di portarlo full ability In più poi Vi completate Praticamente le 30 run Quindi vi fate altre Che devo dire 4-5 run Va per concludere Le 30 run Totali Diciamo E quindi nulla Insomma Vi portate il personaggio Alla fine A tour Ed anche a full ability Insomma dovete fare Praticamente questo Per ogni singolo personaggio Della squadra Ginyu Ed ogni giorno Ovviamente L'evento Ve lo ripeto ancora una volta Non è minimamente limitato È limitato sì Dal lunedì Al venerdì Ma è ciclico Quindi tornerà Ogni settimana Ogni settimana Ed ogni giorno Ci sarà aperto Un nuovo evento Di un nuovo personaggio Ok Quindi potete stare Davvero tranquilli Non avete limiti di tempo Quindi Qui abbiamo concluso l'evento Cioè tra virgolette Non ci siamo portati a casa Purtroppo La copia di Guldo Però non ci interessa Minimamente Perché credetemi Che vi devo dire 20 run Basta ne avanzano Per portarlo ad essi A 10 full ability Il personaggio Per quanto riguarda Almeno I path Quindi Qui cosa dovete fare Alla fine Senza che tornate Ogni volta indietro Senza che andate a vedere Ogni volta l'ability Tenete premuto Praticamente sulle orb Del personaggio E vedete quante ve ne servono Tenete d'occhio Sempre le small Secondo me Perché tanto le altre Vengono da sé Tra virgolette Se voi vi concentrate Ovviamente vi ripeto Sempre sulle small Quindi Abbiamo per il momento 460 orb small Bene Sappiamo che per Guldo Dobbiamo raggiungerne 6000 Dobbiamo raggiungerne 6090 E quindi signori La strada sarà ancora lunghetta E qui non dovete far altro Che andare continuamente A fare il suo evento E quindi Cercare di ottenere Ste orb il più presto possibile Ovviamente Si riesce a fare tutto In un giorno Però si riesce a fare Tutto in un giorno In questo momento specifico Dove La stamina È praticamente Ricaricabile Non in 5 minuti Ma in 3 minuti Ecco vediamo un attimino 245 245 245 Ci siamo capitati Benissimo Però io sinceramente Dato che sto tenendo conto Le small Vado a vedere le small Cioè mi vado a prendere Praticamente quelle lì Ecco Così ne ottengo 6000 Nel frattempo Ottengo altre Medium E altre large E poi alla fine Facciamo il conto generale Ma Diciamo che Vi ripeto In 30 run Si fa tutto Come vi stavo dicendo Poco fa Per l'appunto Si fa tutto in una giornata Specialmente in questo momento Che la stamina Si recupera in 3 minuti Però dovete mettervici Un pochino Di impegno Un pochino Dalla mattina Se vi mettete Dalla mattina E se cercate Di non sprecare Davvero stamina Credetemi Anche Già solo Senza arrivare Alla fine della sera Magari anche Facendo un level up Per farvi capire Riuscite a portarvi Ogni volta Ogni volta che appare Souser Se non vado errato Non ricordo Quale personaggio Comunque ogni volta Che appare Souser Dovrebbe essere Copia Drop Della copia Garantita Però Non è detto Che anche combattendo Col personaggio Della squadra Genius Non riusciate ad ottenerlo Ecco Ora vi faccio vedere Probabilmente riusciamo A droppare Gullu Secondo me In questa run Poi se sfighiamo Tra virgolette Vabbè Comunque non ci interessa Più di tanto Ecco Insomma Siamo a 2 run Di 30 Questa è la cosa Più importante Credetemi Cercate di tenere Solamente le 30 run Ecco Non l'abbiamo droppato Di nuovo Però credetemi Non fa nulla Non fa nulla Quindi signori Senza che torniamo al menu Io direi che possiamo Anche concludere Qui questo video Ovviamente Credo di avervi lasciato Comunque sempre a schermo L'immagine Delle orb Che servono Per ogni Diciamo Elemento Della squadra Quindi Tenete d'occhio Quest'immagine Magari per ogni Diciamo Personaggio che dovete farmare Aprite questo video E tenete d'occhio Quest'immagine Perché andate Su sicuro Senza davvero Perderci la testa Quindi domani Per esempio Esce l'evento di Giniu Sapete che dovete Farmarmi Farmarvi In realtà Non farmarvi Beh se volete Farmarmi Anche voi L'evento Tranquillamente Sapete che dovete Farmare ad esempio 6300 orb Small Una volta saputa Quindi la quantità Di queste orb Che vi servono Tranquillamente Vi mettete lì Vi farmate Per dirvi sempre Le small Arrivate a 6300 E poi Le date tutte Anche perché Le altre vengono da sé E poi vi completate Le 30 run Quindi signori A questo punto Direi che possiamo Anche salutarci qui Spero ovviamente Che questo video Vi sia stato d'aiuto In tal caso Vi invito a lasciare un mi piace E vi invito anche A lasciare un mi piace Per altri video Dedicati a Dragon Ball Z The Dragon Battle Quindi Mi piace Commento Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Condividete questo video Vi ricordo come al solito Che in descrizione Trovate il servizio Per su scontate Date uno sguardo Accedete al gruppo Rispondete alle domande E vi ricordo che trovate Anche il canale Del mio amico Ricky Spritz Che in questo momento È in tour Per il nord Italia Con la sua bicicletta Quindi signori Noi ci diamo appuntamento Ecco qui Al prossimo video Grazie a tutti